Salve ragazzi, come state? Io sono Briller e tu probabilmente sei italiano Ho torto o ho ragione? Lasciami un commento E se ho torto lascia questo video, disiscriviti al mio canale e non tornare mai più Perché voglio solo italiani sul mio canale Sto scherzando se sei di, che ne so, Austria o ci sono altri paesi che parlano l'italiano Svizzera Svizzera o Malta Non credo che le nostre parli in italiano Beh, avete capito, intendevo la Svizzera Oggi volevo presentare un'opportunità unica che non avete mai visto né sentito Che vi conviene sapere adesso se vuoi l'opportunità di diventare bravo in inglese Probabilmente già lo conoscete, probabilmente già avete sentito il suo nome Probabilmente già gli avete stretto la mano per dire grazie per tutto quello che mi hai fatto Ma adesso ragazzi se non lo conoscete voglio parlare di un mio amico che si chiama John Peter Sloan Lui sarebbe questo Non puoi parlare sempre in present simple Perché vengono fuori quello che io chiamo tarzanate Perché Tarzan parlava sempre così Me doesn't, you Jane, I eat, you eat Cioè, non puoi Present simple è una cosa che fai regolarmente I swim, io nuoto Lui è la leggenda, il re, il campione dell'insegnare l'inglese agli italiani John sta facendo tanti progetti adesso Ultimamente sta prendendo studenti nuovi di tutte le età Iniziando con bambini che faranno prove teatrali in cui cantano, recitano Anche ovviamente ragazzi più giovani, teens, adulti Se sei business vuoi fare una carriera in inglese ecco l'opportunità Ci sono tre posti dove si trovano le scuole A Milano, a Roma e a Menfi in Sicilia Ovest Sicilia Quindi se sei interessato vi potete fidare di me Perché conosco John Lui è scritto, è un autore, ha libri È proprio famoso in Italia Quindi vi potete fidare comunque Spero che darete un'occhiata alla sua pagina Sarebbe una figata John, un messaggio per te Sei un grande Per il resto ragazzi Ci vediamo al prossimo Alla prossima Con video tipici, normali Briller What's Gucci? I'm out One hundred, they live two One love Peace